Conseniamo uno stupefacente a domicilio, facendosi pagare anche le spese per il carburante. Le ordinazioni avvenivano tramite telefono, whatsapp e facebook, con un linguaggio in codice. Il sistema era stato ideato e realizzato da un intero nucleo familiare, composto da padre, madre e figlio di Orbassano, e quanto emerso nel corso di un'indagine dei carabinieri della compagnia di Moncalieri, che hanno individuato e arrestato una banda di spacciatori italiani che vendeva cocaina, marijuana e ascisce in provincia di Torino, Biella, Cuneo e Verbania. Questa mattina, nelle province, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 22 indagati per concorso in detenzione e spaccio di droga stupefacente. I clienti pagavano sovrapprezzo per le consegne che avvenivano a domicilio. Il nucleo familiare si avvaleva del sostegno di una ventina di collaboratori per vendere le dosi a più di 150 clienti. Sono state documentate circa 400 cessioni di stupefacenti. Le indagini sono incominciate nel 2018, quando Minorenner era stato denunciato dai carabinieri per aver spacciato hashish ad alcuni coetane in un fast food di Beinasco. I successivi accertamenti dei carabinieri della stazione di Beinasco hanno permesso di individuare una rete di piccoli spacciatori, che con il tempo è riuscita ad acquisire il controllo del mercato della droga a Orbassano, Beinasco e in alcune zone di Torino. La droga era importata dall'Albania. Nel corso delle indagini sono stati individuati 28 pusher, tra denunce e arresti, sequestrate oltre 16 kg di stupefacenti, tra cocaina hashish e marihuana. Sono state eseguite decine di perquisizioni a Torino, Biella, Cunia e Verbania, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti contigui al gruppo criminale. Grazie.